Anonima e in silenzio Alcuni maestri immateriali hanno atteggiamenti ieratici, come quello ad esempio di allargare le braccia per accogliere i discepoli. Commento Certi atteggiamenti hanno spesso lo scopo di affascinare i probabili discepoli e non hanno nulla a che vedere con la vera evoluzione che fluisce anonima e in silenzio. Non potrebbe essere altrimenti, poiché l'evoluzione è già premio per l'evoluto.